Massimo Laporta ha deciso di partire da via salvo d'acquisto per incontrare i cittadini e affrontare con loro e con i candidati consiglieri le problematiche dell'area e il progetto di sviluppo comprensoriale che prevede un investimento per un polo della cultura e dell'innovazione. Roberto Mutalipassi invece a San Marco ha incontrato i giovani presentando alcuni dei candidati consiglieri tra i più attivi quali Giuseppe Di Filippo e Roberto Apicella. Raffaele Pesce dopo aver toccato nelle scorse settimane tutti i quartieri della città è ritornato nel centro storico per illustrare iniziative e proposte per quello che deve tornare ad essere il grande attrattore della città. Elvira Serra ha vissuto invece una domenica all'insegna degli incontri nel corso Garibaldi sottolineando la giornata speciale della festa della mamma con l'adesione all'iniziativa dell'AIRC con la vendita della Zalè per la ricerca. Si apre così l'ultima settimana prima della presentazione delle liste il 14 infatti gli uffici comunali saranno aperti per ricevere la documentazione relativa alle candidature. Dopo quest'ultimo adempimento formale la campagna elettorale avrà così il suo avvio ufficiale.